si parti questo è un primo semi lungo letto andiamo di fare le trenta allenamento preparatorio per il passatore hashtag rtp un prodotto passatore il gatto sempre sulla striscia bianca ti ricordo tanto passa nessuna questa un paio d'ore tanto alle 9,10 e va via eh vabbè che bella alba che bella alba comunque lo sbaffa al culo ciao dai 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 ecco lo zoricchio uuuu 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 si uuuu dai un bagnetto dopo 25 chilometri ci voleva 5 chilometri sono sempre in casa e ora viene Andrea la figlia del duc stamani me l'hanno offerta vai arrivata 30 chilometri il primo mini lunghetto l'ho fatto eh ma che bella eh sensazioni buone ho le gambe alla fine ci si mettono al bagno vai conosciamo conosciamo più no 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 no